buongiorno carissime amiche web spettatrici carissimi amici web spettatori buongiorno benvenute e benvenuti siete collegati in diretta con salvo 5.0 channel chi vi parla e salvo mandara sono in diretta da cornaredo in provincia di milano sono anzi oggi è lunedì 17 febbraio e sono in questo momento le 9 e 27 minuti allora oggi sì non sono riuscito a partire con il mi scappa la diretta proprio da casa perché ho dovuto fare alcune telefonate che non potevano attendere e quindi sono già arrivate ecco sto vagando all'interno del parcheggio dell'azienda dove lavoro proprio alla ricerca di un parcheggio quindi oggi ecco il mi scappa la diretta magari non sarà di 20 o 30 minuti come a volte capita ma cercherò di essere breve perché essendo già arrivato insomma vorrei una volta tanto vorrei andare in ufficio non troppo tardi allora il parcheggio intanto l'ho trovato beh i parcheggi qua ce ne sono tanti diciamo ne ho trovato uno non troppo lontano allora carissimi amici beh oggi diciamo che una buona parte del mi scappa la diretta sarà dedicato a darvi delle informazioni logistiche su alcune attività che avrò oggi che farò oggi ovviamente attività sempre di tipo diciamo legato all'informazione bene ho parcheggiato ho spento il motore vedete mi tolgo la cintura perché sono fermo anzi adesso mi sa che prendo anche il telefono in mano vabbè indosso il badge intanto ecco qua così non me lo dimentico perché a volte mi capita che dopo che ho fatto 300 metri dal parcheggio all'ufficio arrivo e non ho il badge allora carissimi amici quindi che stavo dicendo eh beh sulla scena politica stendiamo un velo pietoso quindi consultazioni ultra rapide eh fra fra il garante dell'inciucio napolitano e e e i vari e i vari esponenti politici compreso il pregiudicato Berlusconi fra l'altro oggi ho visto un video stamattina in cui c'erano delle persone che hanno denunciato hanno fatto una querela contro Berlusconi e Napolitano perché secondo loro essendo stato Berlusconi eh condannato e quindi essendo stato è stato inibito il diritto di svolgere qualunque tipo di pubblico ufficio diciamo anche il fatto che il presidente della Repubblica l'abbia ricevuto non all'osteria per fare due chiacchiere ma eh presso una sede istituzionale per una consultazione istituzionale secondo queste persone questo è un atto illegale illecito e quindi hanno proprio sporto una querela contro Napolitano e anche contro Berlusconi perché secondo loro Napolitano e Berlusconi avrebbero commesso un reato a fare questa consultazione vabbè a me non interessa se c'è stato un reato onestamente cioè non è che non interessa se c'è stato un reato ok ma per me è già grave dal punto di vista etico e morale che un presidente della Repubblica incontri un condannato per decidere un attimo le forti del paese questa è la cosa grave anzi non un condannato scusate un pregiudicato il condannato è Renzi per il momento in primo grado da parte della corte dei conti per danno erariale vabbè quindi adesso c'è il toto ministri in Italia va tutto bene non c'è nulla di cui lamentarsi la gente si lamenta la gente fa finta di morire di fame ci sono quelli che fanno finta di suicidarsi ma è tutta una finzione in effetti va tutto bene basta che voi accendiate la televisione per vedere volti sorridenti di persone che si divertano proprio fanno quelle risatone da sganasciarsi proprio da da rompere qua l'articolazione della mandibola perché per loro va tutto bene perché tanto l'unico dubbio è se al se al tesoro ci va tizio o caio se al ministero delle finanze no al ministero del dell'interno ci rimane alfano se al ministero degli esteri ci rimane l'abbonino eccetera c'è solo un toto ministri un toto poltrone un toto magna magna ma per il resto in Italia va tutto assolutamente bene poi vabbè giovedì da quello che dicono le previsioni ci sarà il giuramento perché appunto adesso letta sta completando le sue consultazioni interne per decidersi come per decidere come come spartirsi le quattro poltrone e poi se ho capito bene giovedì ci dovrebbe essere il tanto famoso giuramento io direi sper giuramento è uno sper giuro quello che fanno perché loro giurano sulla costituzione di servire la costituzione lo stato italiano e sappiamo bene invece che loro se ne fottano altamente la costituzione anzi stuprono la costituzione fanno tanti atti che sono contrari alla costituzione che proprio stuprano violentano la costituzione quindi quello è uno sper giuro cioè loro giurano mettendo la mano sulla costituzione italiana ma quello è uno sper giuro perché loro sanno già che quella costituzione sarà fatta carne da porco di quella costituzione per esempio renzi ha in mente di cambiare il titolo quinto il titolo quinto famoso che serve per poter espropriare i comuni e le regioni delle utilities che servono per acqua gas luce eccetera in modo tale che oltre ai 12 miliardi di eni e nel fin meccanica possono fottersi anche tutte le utilities locali che sono praticamente se ho capito bene addirittura centinaia di miliardi titolo quinto ricordatevelo che lo dicono a legge elettorale titolo quinto ecco titolo quinto ricordatevi tenete in mente a che cosa serve il titolo quinto bene 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 comunque basta parlare di questi inciuci tanto sono sempre le solite storie ecco sul fatto che giovedì si giura anzi si sper giura io ho fatto un tweet dicendo state attenti giovedì vi sconsiglio di aggirarvi nell'intorno di palazzo chigi perché potrebbe esserci qualche pallotto lavagante magari qua capita qualche altro preiti da quelle parti che magari si mette a sparare perché sapete quando si sper giura loro lo sanno che stanno facendo una cosa contro il popolo italiano e allora per cercare di serrare i ranghi per cercare di diciamo creare unità intorno al neo governo al novello governo magari c'è qualche pazzo che si metta a sparare in giro quindi attenzione ecco non aggiratevi dalle parti di palazzo chigi perché qualche qualche folle che spara a carabinieri donne incinta che poi scompaiono eccetera ecco potrebbe potrebbe succedere quindi ho tweetato questa cosa e uno mi ha detto ma tu sei matto questa è istigazione alla violenza detto ma tu forse sei scemo io gli ho risposto questa non è istigazione alla violenza questa è semplicemente analisi della storia e previsione del futuro potrebbe succedere ecco vabbè vabbè vediamo cos'è che mi scrivete pasqualino mi dice ma che senso ha fa parte di uno stato che non vuole avere voce in capitolo sui beni di prima necessità vabbè non ho capito bene il messaggio di pasqualino poi steve dice secondo il giornale tre minuti tre ministri chiave saranno scelti da napolitano vabbè e infine molobello dice i partiti dicono solo ca sono cavoli nostri poi ci sono dei saluti da parte sempre di molobello di me cos namaste e di pasqualino benissimo allora carissimi amici quindi prima di salutarvi vorrei dire due cose importanti per chi ama l'informazione ruspante così on the field sul campo allora oggi alle 3 cioè alle 15 ci sarà al pirellone la sede delle della sede del consiglio regionale della lombardia ci sarà un importantissimo un'interessantissima conferenza che parla diciamo di tangentopoli vecchia e nuova tangentopoli ora purtroppo non ricordo il titolo esatto dell'evento comunque è un evento che parla appunto di corruzione nuova vecchia eccetera ci saranno un paio di magistrati del vecchio team di mani pulite e ci sarà peter gomez che farà diciamo da moderatore da conduttore dell'evento ecco io andrò e farò la diretta streaming quindi se siete interessati alle ore 15 su salvo 5.0 su youtube ci sarà una diretta streaming dal pirellone la sede della del consiglio regionale della lombardia per parlare di corruzione nuova e vecchia e poi infine questa non l'ho mai scritta da nessuna parte non l'ho mai detta ma ve la dico adesso stasera alle 21 e 10 sarò ospite della trasmissione i funamboli condotta da alessandro milan su 7 gold bene quindi se siete interessati è una una trasmissione di diciamo una specie di talk show però ho fatto bene anche perché a me piace molto la il lo stile di conduzione di alessandro milan alessandro milan vi ricordo è lo stesso che conduce su radio 24 24 mattino ecco ci siamo ci siamo sentiti siamo entrati in contatto e mi ha invitato ad andare appunto ad andare in questa trasmissione si parlerà naturalmente di politica eccetera e io parlerò come diciamo come cittadino come intervistatore così parlerò anch'io di politica per quel poco che riesco e cercherò anche proprio di promuovere il progetto di salvo 5.0 quindi se siete interessati a oa scusate piccolo dettaglio ovviamente anche questa cosa sarà trasmessa in diretta streaming su salvo 5.0 su youtube quindi oggi doppio appuntamento in diretta streaming alle ore 15 dal pirellone conferenza su corruzione nuova e vecchia e alle ore 21 circa io magari comincerò la diretta sul mio canale anche un po prima comunque alle ore 21 circa magari 21 meno un quarto così vedremo diretta streaming ancora una volta sul salvo 5.0 ma per chi vuole anche diretta sulla televisione sul canale 7 gold 7 gold che credo sia un circuito nazionale quindi si dovrebbe trovare più o meno in tutta italia cercatelo sul digitale terrestre se vi interessa ovviamente vedere queste trasmissioni che si intitola i funamboli conduttore alessandro milan bene diciamo che con questo è tutto io vi auguro una felice giornata quindi ci vediamo per chi lo vuole sul salvo 5.0 alle 15 dal pirellone e alle 21 dagli studi di 7 gold buona giornata a tutti grazie ciao